e benvenuti benvenuti a tutti ragazzuoli benvenuti in una nuova diretta si diretta video ormai sono abituato con le dirette il nuovo video con a spasso nell'interregno con iso e rocco ciao ragazzi come state bella a tutti non morirmi senza bene non morirmi rocco mi raccomando c'è chi sta meglio c'è chi sta invece aspetta 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 molto peggio i vini qua rocco fa fagli fatti vedere come sei bello con questa armatura che abbiamo preso guarda che figo che sei l'armatura dall'altra volta esatto ultima volta che presa un caldo 23 settimane fa due settimane fa ci particolari particolari siamo siamo rimasti un po indietro ragazzi nel frattempo loro sono andate avanti no non siamo andate avanti non ho toccato il delineo da quando abbiamo abbiamo non abbiamo abbiamo abbattuto blade vabbè dobbiamo ancora ragazzi non ancora fatto la storia delle delle pozioni di del la il balsamo il balsamo no no i balsami non ho ancora attivato i balsami ma ce li ho probabilmente da fare sono che non li ho ancora fatti via ora venite e mi si lascia poi si lascia qua così vabbè tanto mi questo l'altra volta ha fatto il suo ha fatto tanto finché non ti l'ha dei capelli non ti serve un balsami ha fatto la battuta io ho fatto che è già morto qua ragazzi era una battuta quasi stupenda eh una battuta o meno era una di quelle battute che se l'assaggiavi sapeva di bene ti dico solo questa oggi partiamo col botto eh ragazzi ma si ma si ma si si è mancato che ha preso non lo so mi è venuta proprio così mi è venuta perché sentivo troppo il gioco non sentivo voi è risolto la cosa eh risolto la cosa perché facendo esperimenti con obs non lo sapete ma ho letteralmente tolto l'audio del gioco dal dal desktop quindi io adesso l'audio del desktop da una parte l'audio del gioco completamente dall'altra quindi io non sento l'audio del gioco bene mi ha ucciso molto molto ha ucciso tutti credo se ci ha schiattato tutto guand ha fatto una strage ha fatto una strage il serpentone dei miei coglioni bene bene io uso il basso per il capello uno solo l'unico un capello bianco li uso il balsamo invece sugli altri ho capito ci siete ragazzi eh sì in attimo ci siamo devo sempre entrare io devi andare dall'amico fatemi recuperare le mie 225 rune non vorrei mica lasciarli ok andiamo e la miseria entriamo molto presto avete visto si abbiamo visto ci siamo entrati am orca cazzozza no cazzarola è troppo pesante la corazza di blade un pochetto pochetto tanto piuttosto togli la te togli la testa piuttosto la la testa 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 stessa della coraggio anche quella è abbastanza pesante quanto devo togliere vabbè vedi tu no no quella di blade in realtà non è poi pesantissima vado al calo al testa di lupo vai andatemi i prodi perché mi sono stati appena testa di lupo comunque che testa di minchia meglio testa di lupo esatto esatto via paeso ecco io e c'è ora vado è tremendo l3 tanto mi ha avvenenato e mi ha preso allora vediamo se riesco con questa magia perfetto grande da morto e morto e avvelenato e morto anche tu va bene ma che tu fare un'altra cosa va anche tu mi sono già rotto la minchia andiamo dov'è che vuole andare grande montacarichi ci abbiamo andiamo lì dai andiamo al montacarichi ci abbiamo un montacarichi tectus hai preso i medaglioni tectus e si ho preso tutto forse dobbiamo solo salire ci possiamo vedere qua si qua prima della scalinata vicino la grazia io vi evoco e via dai va bene io metto venendo a te che ah no non si può mettere il dito però qua secondo me dobbiamo salire per forza su ah sì ok vabbè allora e mi sa di sì troviamoci sopra eh sì perché il dito non te lo fa mettere e ora te lo fa usare sto pezzo di fango ma il dito no voleva il medaglione la presenza di grayskull ecco il personaggio di loris viene bene sta scena il suo iman vediamo il filmato va che bel filmato guarda va che roba va che roba io ve l'ho detto che il mio personaggio è più figo di tutti e beh sì è o p o p so soprattutto opera pia o bene le statue si girano così girano e non saliamo tra l'altro questo filmato si potrebbe saltare tranquillamente ma invece ce lo guardiamo tutto ha detto guardiamo il filmato io ho guardato ma anche voi dovevate attivarlo ma io c'ero già andato su per ogni volta che fa il filmato passi da qua ti fa vedere il filmato si ok si può mettere il dito secondo voi oh bene non lo so adesso vediamo si 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 proprio qua però questa era una zona bella era questa vero ah devo prendere anche il sanguinamento quello che ha preso Roku qui si allora io l'ho messo prima dei due giganti eh no io l'ho messo proprio dove dove scendi dove arrivi dove non batte il sole ok ho messo perfetto buon 26 e 106 ok vedo iso bene avvocato e marcia 604 wax eccolo l'ho 25 c c e anche 140 più o meno non due bei golem 40 140 336 06 va bene va bene un attimo come funziona sta roba dai andiamo andiamo su quella volta prima quello con l'arco o quello lì vabbè vai questo male ci 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 dai però tiriamo giù come niente questo è andato è andato quanto è io vado troppo aspetta la pagina questa non sono ancora cercando di di trovare la mia a parte che e non mi lanci queste cose signore una doppia spada si è girato ma ha avuto paura che gli mettesse a doppia la messa l'invasione siamo stati invasi a qualcuno davvero quanto mi piace alla gente che ti invade e non si aspetta che siamo in tra c'è c'è proprio tanto gente che no no sta facendo la messione no ragazzi qua c'è cosa hai preso? no no devo fare una cosa ok cosa no e si no 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 è tranquillo è tranquillo ah ok si dai muoviti piano con me così sembra che porti in giro lo standard vai 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 andalo lì no dov'è ragazzi ma dov'è quello che c'è invaso? non sto ma io c'è sempre sto cazzo di bug invece si ma te ti si vede proprio tutto si perché hai il mantello del perché ora il mantello esatto ah che bello quel mantello dove l'hai preso quel mantello è bellissimo con il mantello voglio anch'io quel mantello ragazzi si prende nell'area segreta in cima all'area segreta quella la del la rinnevata sostanzialmente no ah si ah ok ma non ci sono ancora arrivati no anche perché è veramente un dito in culo arrivarci no no non mi ricordo quanto era bella però quella zona no è molto bella soltanto che devi prendere praticamente altri due medaglioni e la miseria ma questo qua è rimasto vivo ok è morto è morto è morto poi c'è una spada qua una chiave spada è morto va bene andiamo il nostro amico dissidente mi sa che è già uscito perché e non si vede non si vede nessuno mi cagao un coglio si deve cagato ci stiamo cagando sotto cosa siamo del genere era di qua non cosa cosa dove qua c'è un testa di zucca venite di zucca via dov'è dov'è è qua dentro è qua il dissidente porca puttana stavo guardando il menù mi ha iniziato a attaccare vaffanculo vieni qua Rocco vieni 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 eh sta arrivando ma perché è rimasto da dietro porca sta arrivando sei anche sei anche birra ma dicono che ti fermi no invisibile stavo guardando il menù stavo cercando una roba è invisibile stronzo mettiti invisibile Rocco bravo fanculo ma cosa si è trasformato? rimetto il dito dove c'erano i due giganti comunque si no non si è trasformato in niente è invisibile semplicemente sta usando il sta usando eccolo qua ma e là e là e là ah si ho visto porca vacca mazzalo sto merda ah ma c'era spazio del lineare quello si dovrei andare a prendermi non ho ancora presa dovrei ricercarmelo da capo semplici e vado al culo va vabbè non ti offendere Eh no, mi ha ucciso L'ho fatto fuori? Eh sì Sì sì, ma gli ha ficato tre saccagnate che Che metà bastava È già morto per gariotto James a fargli cura Vieni qua, vieni qua, cosa vuoi fare? Gigante dei micco comeri Fangate Ho messo troppo tempo prima quando voi eravate ancora insieme nella partita Ah, qua vivo, qua in piedi Ancora io so faccia di cura È morto? Porca vacca Ora convinto fosse morto E anche io Guarda che ti muoio Quanta vita c'hai Quanta vita c'hai Non ho dovuto far niente Ok, dai andiamo Eh, grande Andiamo alla grazia Vai Si riguarda un po' doveva una grazia Qua Dove ho messo il punto Si vede? Il segno blu No, non si è un cazzo Sono nella mia partita Si vede? Sì Vabbè, allora seguitemi Allora seguiamolo Cioè Basta questa parte a destra Andate sempre dritto Dove sta andando James? Andiate sempre dritto Andiate Io mi so credo delle lune Che avevo perso Eccoli qua Andiate dritto Andiamo Signor Bond Signor Samurai Andiate Un termine bocconiano Questi due pirloni Eh figa Si è fatto sentire però Vi hai chiamati Vi chiami pirloni Questi si girano Quei ciccio La grazia dovrebbe essere qua dietro In teoria Dovrebbe Sì qua sopra Andiate Vedete Andiamo Andiate Andiate Mi tirò Mi provo Di Sarai coglione Andiate Poi Presa C'era un sacco di gente Qua è rimasto solo Il cavaliere Ma gli altri dove so Oh ma che giuro Che li ho visti Ah ma sono qua dietro Vai Iso Ce la fai E non morire Che sberla E voilà Non arrivavo io Vai che c'era Cavallo zoppo Quello Eh sì Eh sì No vai Vai giù va Mi soffreta il corpo La via Sono proprio delle seghe Sti cosi Vuole fegato Fegato animale Che mi ha dato il cavallo Vai Sempre dritti ragazzi Bene 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 C'era qualcosa di figo Poi dove c'è il mangiamerda Ah la mappa Mi serve la mappa dopo eh Andiamo su di qua Che c'è qualcosa di figo Vedrai Lasciamo andare prima Rocco Che è overpowered Che senza di lui Non riusciamo a andare avanti No no Facciamo andare James Che non è mai andato Eh non l'ho mai visto qua io Alla miseria Porca miseria Fa un culo Mi piace un sacco questo posto Me lo ricordo Palestri di merda Palestri di merda Passiamo da dietro Facciamogli Ma non potete Ma sì Si sale da lì E si va Siamo da dietro Come dice Rocco Con le cose Tu secondo me La si è fatta Proprio tutta dritta Vero Iso Perché sono qua A combattere contro di loro Senti overpower Si overpower Ah infatti Li sto anche uccidendo Cantigamente Senti come overpower No invece ci abbiamo Non si può andare Eh no Beh io mi ricordo che C'era un passaggio di qua No no ma c'era E per quello che vi ho lasciato andare Perché sai Perché sai Troppe è certo Bello Ho vinto No Della piccata Allora Ma non è vero Di qua si passa Ma sì dai Facciamoli andare Vediamo dove arriva Ma se non lo sai Se non lo sai Stai zitto Dove sei te Sei ancora lì Sei Sono qua Certo C'era un sentiero Ma donna Quanto fastidio Preccia Ombrelloni Via Via E tipo I marocchi Quindi ti vendono il cocco Però questi ti vendono gli ombrelloni E tirano direttamente Eh certo Certo Perché non dovresti farmi questo attacco Che mi Attaci Ho un ombrellone conficcato Come faccio ad arrivare lì adesso Ma chi è che è morto alla fine Scusa non ho capito Ma si Adesso arrivo lì da solo Da solo Arrivo lì Ma che me ne frega me Adesso ho da prendermi la grazia E poi arrivo al fondo della scalinata Però Vi aspetto lì sotto So che voi non avete più i nemici Ma aspetta Adesso posso usare il cavallo Ci vediamo sopra Io ero dimenticato di avere Sborrente qua Vai Ha scoperto il cavallo Mi sono scoperto Sì dopo soltanto 700 ore Che sta giocando sto gioco Ho capito Non me lo ricordavo più ragazzi Sborrente Il mio perde bava dal culo Allora il grosso problema È che non so dove potremmo No 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 Andare James E cazzo 222 cavallo Esatto Esatto Perché infatti Non so dove potremmo rigenerarti Rocco Perché Io sinceramente Scenderei in basso Alla scalinata Altrimenti non ce la fai E fate cosa volete Io sono qua Dalla grazia Scendo Però E cosa vuoi dire E cosa voglio dire Che se un coglione Ti si è fatto fottere Da un nemico qualsiasi Secondo te Ce la fai arrivare A metà scalinata No Quindi Ma sì che ci arrivo E va bene A me ci vuole Metti il dito lì In mezzo alla scalinata Vediamo dai Metto il dito Poi scappo di nuovo Corro Certo A metà scalinata A metà vuol dire La seconda rampa Eh vedi Mi affettavo Di la seconda rampa Io ce la faccio A metterlo Eh vai Ce la faccio A metterlo E che poi non resisto Tanto Ascolta Fai prima Ma guarda come mi seguono Eh Prima della rampa Ha detto seconda rampa Io lo metto Nella seconda rampa Metto il dito Non ce la farò mai No ho già messo Sono già scappato via Per chi mi hai preso Guarda mi sono pure messo qua E sti lordi non mi vedono Guardali Sti coglioni Non mi hanno visto Ma è qua che dice vero Dove sei tuo La seconda rampa La seconda piazzola Ah c'è la prima rampa No La seconda rampa Magari questa è la prima E dalla parma sinistra Che è la prima Non sarà qua Ah trovato 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 È la seconda no Si dice sto coglione Che mi spara gli ombrelloni Ma vai in spiaggia Vai a Luano A rompere il cazzo Non a me Ma guarda a te Ma guarda Ma come sei messa Feschette Che ne hai? No Bene posso venderne Ok E figa Però aspettatemi Che sto bevendo Andiamo Forza Ehm 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 Ehm